Funzioni. Processing, come tutti i linguaggi di programmazione moderni, permette di definire delle funzioni, cioè dei sistemi per ottimizzare e migliorare la scrittura del codice, più che altro razionalizzare. Mi ricordo una volta quando lavoravo in ferrovia, mi è capitato di dover mettere a posto un listato che era lungo 4800 righe, una cosa incredibile, ed era un corpo unico. All'interno c'era un gruppo di linee, una decina di righe, per modificare la data dei treni in base al loro codice. Queste linee erano ripetute una decina di volte all'interno di questo papiro di codice. Per modificarle fu un delirio, mi ricordo, perché bisogna andare a leggersi tutto per cercare il punto in cui venivano ripetute queste dieci righe. Ma questo è una follia, ma le funzioni servono appunto a questo, quindi si sarebbe dovuto evitare di distribuire quelle dieci righe per dieci volte all'interno del codice e riassumerle in una funzione da chiamare una volta sola quando necessario. Vediamo subito come fare. Impostiamo uno sketch vuoto con setup e draw. Oggi vedremo solo la definizione, poi in un prossimo video vedremo come applicare le funzioni in un caso reale. Andiamo a definire una funzione. Una funzione serve essenzialmente per raccogliere una porzione di codice che prevedo utilizzare più volte per evitare di distribuirla all'interno di un listato in più punti. Questo perché se dovessi modificare poi la funzione successivamente, cioè se dovessi modificare quelle linee di codice che ho inserito all'interno del mio listato, dovrei passare magari in 10, 15, 20 punti per cambiare le cose. Quindi con una funzione riesco a migliorare il codice, raccogliere un gruppo di istruzioni che svolgono un'operazione che sarà ripetuta e darle un nome e tenerle in un posto unico. Vediamo un esempio. Creo una funzione somma che somma semplicemente due numeri. Questa funzione ritorna un risultato di tipo intero. Quindi la prima scrittura che vedete qua, questo int è il numero che viene ritornato dalla funzione. Somma è il valore che gli vado a dare, poi ho due parentesi e all'interno di queste parentesi vado a mettere i parametri, cioè i numeri che fornirò. In questo caso int a e int b. All'interno della funzione andrò a svolgere delle operazioni, per esempio int n uguale a più b, cioè sommo a e b, li metto all'interno della variabile n e poi avendo promesso che ritornerò un valore, devo obbligatoriamente mettere return, che è una parola speciale, n, quindi ritorno un risultato. Per utilizzarla poi andrò a chiamarla qua nel setup, anzi chiamiamola subito. Crea una variabile x e il risultato è dato da somma di 10 e 20. Vado poi a scrivere println di x. Vedete tutto funziona e viene stampato 30. Esistono varie sfumature di questa definizione che abbiamo visto, per esempio possiamo avere una funzione che prende un parametro ma non ritorna nulla. Crea una funzione stampa che non ritorna nessun risultato, quindi avvisiamo processing che il tipo di ritorno è void, void vuol dire vuoto, quindi nulla, non ritorna niente. Prende però un parametro, in questo caso è una stringa, la chiamiamo msg che sta per messaggio. Cosa faremo all'interno di questa funzione? Che nel caso in cui non ritorna nulla, prende il nome di procedura, quindi facciamo println di msg. Andiamo qua sopra e invece che println mettiamo la nostra stampa. Abbiamo un problema perché stampa si aspetta di ricevere una stringa, non un intero. Un sistema per fare rapidamente una conversione è quella di sommare a x una stringa vuota. In questo caso viene trasformata al volo in una stringa. Facciamo run e otteniamo ancora il print del risultato 30. Possiamo poi creare un'altra funzione ancora, chiamiamola i, che è di tipo void, quindi non ritorna nulla, ma non prende anche nessun parametro. Quindi anche i parametri possono essere vuoti e in questo caso faremo println e qua scriviamo lo, col punto esclamativo. Andiamo a provare anche questa funzione. Mettendola dentro setup vedete che stampa il suo risultato. Quando chiamiamo una funzione, l'esecuzione del programma salta dal punto corrente, salta all'interno della funzione e si crea un ambiente nuovo in cui va a definire delle variabili e lavora. E così come se saltassi in un altro sketch, quindi il processing si dimentica di quello che stava facendo prima e si trova in questo ambiente, in questa stanza definita da somma, dove riceve queste due variabili e ne crea una nuova, questa int n, che ovviamente non è visibile all'esterno. Fare la sua operazione ritorna n. Queste due variabili, i parametri, sono copiati, quindi vengono copiati i valori e quindi quello che voi fate qui dentro all'interno di somma non va a influire sul valore originario di a e b. Vedremo più avanti qualche approfondimento su questo tema. Bene, abbiamo visto i tre modi principali per definire una funzione, spero sia tutto chiaro e semplice, se non fosse così fatemelo sapere che cercherò di spiegarvelo rispondendo a un vostro commento oppure con un video di approfondimento. Bene, ci vediamo domani, ciao!